Ciao a tutti, oggi realizzo un post su Silvestro Lega che è considerato uno dei pittori più importanti dell'Ottocento italiano. Ho recuperato tra le mie cose questo splendido libricino dell'Istituto Luce a cura di Mario Tinti, uno dei più grandi critici d'arte morto nel 1938, che dedica alcune pagine a questo meraviglioso pittore. Oggi nello specifico andremo ad analizzare un suo quadro che mi è piaciuto tantissimo, poi se avete la possibilità di andare nel blog vi racconterò perché ho scelto proprio questo quadro, fermo restando che ripeto è considerato uno dei più bei quadri del purismo italiano e che è il canto dello stornello, quello vedete in bianco e in nero, adesso sul pc andremo ad analizzarlo nei dettagli a colore, ma se avete la possibilità andate su internet e guardatevelo, è un po' buio ma con lo zoom cercherò di analizzare meglio con voi i dettagli e farvi vedere meglio il quadro. Innanzitutto diciamo che chi era Silvestro Lega? Silvestro Lega era un pittore morto, nato nel 1826 e morto nel 1895, un pittore nato a Forlì, a Modigliana, all'età dei 69 anni, mi ha incuriosito molto la sua vita, ha avuto una vita bellissima inizialmente e questi quadri ne sono la testimonianza, e poi dal 69 in poi ha incominciato ad attraversare un periodo tragico della sua vita che poi ha avuto anche ripercussioni sulla sua arte, quello che vedete adesso dopo il 1969 non c'è più, cambierà completamente, il suo modo di dipingere si trasformerà e quindi farò ancora un paio di post e vi racconterò come si è evoluta la sua arte. Io considero questo quadro meraviglioso, mi mette una pace, una serenità, sono sicura anche a voi, del resto è considerato, ripeto e ribadisco, uno dei più bei quadri dell'Ottocento e questo senso di serenità che traspare da questa raffigurazione in realtà era proprio lo stato d'animo di Lega in quel periodo della sua vita. Innanzitutto andiamo a descrivere il quadro, il quadro rappresenta tre donne, si tratta di una lezione di canto, tre donne, una al pianoforte, Virginia Betelli che sarà poi la donna amata dal Lega che morirà tragicamente nel 69 e da quel momento comincerà per l'artista un periodo buio. E alle spalle le due allieve, probabilmente appartengono, sono le figlie della famiglia Cecchini con cui Lega aveva stretto amicizia. Andiamo ad analizzare nel dettaglio innanzitutto uno dei temi che tornerà spessissimo nelle opere di Lega che è la luce. Lega realizza una finestra aperta dalla quale abbiamo proprio la sensazione che entra all'aria di primavera e l'odore dei campi di grano che vedete all'orizzonte che terminano in queste colline fiorentine. Il sole che entra, adesso con uno zoom cercherò di farvi vedere, e che illumina, meravigliosamente, le mani di Virginia, una parte del pianoforte e poi, come vi faccio vedere, anche qui, esatto, la parte del pianoforte. Sembra di stare lì, sembra di vedere il riflesso del sole sul pianoforte. Ora, la famiglia, le tre donne rappresentate, fanno parte di una famiglia, di una buona famiglia. All'epoca la buona famiglia era una famiglia piccolo-borghese. E lo si vede non solo dagli abiti delle donne, ma anche dal pavimento e dal tendaggio, che non si vede tanto bene perché è scuro, ma cercherò di fare uno zoom. Io ci tengo particolarmente a farvi vedere il realismo di questo quadro. I dettagli del vestito di Virginia sono qualcosa di meraviglioso. Innanzitutto, guardate il bottoncino, ma la trama di tutto il vestito, come è realizzata. Per non parlare poi delle cuciture, che sono una cosa, un dettaglio veramente incredibile. Sembra di toccarla la stoffa. Voi avete la sensazione, sicuramente, che la stoffa non è leggera. È un cotone pesante e sembra quasi di toccarla, di percepirla, attraverso la sua rappresentazione. Ripeto, è un quadro bellissimo. Guardatevelo su internet, se avete la possibilità, apprezzerete molto di più i colori. Per non parlare poi, dicevo, del tendaggio. Un'altra caratteristica del lega è il suo realismo. Nelle sue opere lui era considerato un purista. Guardate il viso di questa donna. attenta alla sua maestra, con le labbra semiaperte e un dito sul mento, come facciamo noi di solito quando siamo interessati a qualcosa e guardiamo con attenzione ed interesse qualcosa. La caratteristica di lega è quella di essere, perlomeno in questi quadri, cerca di cogliere aspetti della vita quotidiana. Lui era ospite dei betelli in questa villa e per cui la maggior parte dei suoi quadri, fino al 69, rappresentano proprio momenti di intimità domestica. Le donne o che ricamano, o che chiacchierano, oppure appunto, come in questo caso, che fanno lezioni e che sono al pianoforte. In un periodo che è sempre più o meno legato a questo, si avvicina molto alla pittura dei macchiaioli, per poi discostarsene con una originalità che è appunto tipica del suo stile. All'inizio, lega era stato presso la bottega, tra virgolette, di Luigi Mussini, un pittore che si ispirava molto alla pittura purista, che era orientata alla rivalutazione dei maestri del 300 e del 400. Ma in realtà, lega, sì, fa alcuni quadri di ispirazione purista, ma completamente, diciamo, senza il motivo religioso. Perlomeno realizza soltanto 3-4 lunette per l'oratorio della sua città. Poi abbandona questo tipo di pittura per dedicarsi a quella realista e a quella appunto della piccola intimità familiare. Spero, insomma, che la spiegazione vi sia piaciuta. Analizzeremo poi nel dettaglio anche altri quadri. Ho dimenticato di farvi vedere la particolarità anche del tendaggio, del tendaggio che è molto spumoso, diremo gonfio, no? Che indica quindi una tapezzeria, un tessuto molto ricercato, tipico appunto, come dicevo, delle buone famiglie. Un arredo quindi molto, molto ricercato. Spero, ripeto, che vi sia piaciuto il post. Ne realizzerò altri, sempre su Silvestro Lega, che è un pittore davvero da studiare e da apprezzare. Grazie a tutti.